C'è una cosa che mi piace fare nelle serate estive ed è camminare nelle periferie semideserte di Lecce, nei quartieri lontani dalla folla e dal caos, tra palazzoni dal fascino decadente, piazzette solitarie e pezzi d'arte che cercano di soffiare vita nell'apatia lenta della periferia, come questa sera in questa nostalgica zona 167. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.